I disordini scoppiati in 27 carceri italiane rischiano di coinvolgere anche il Molise. Le forze dell'ordine hanno organizzato posti di blocco all'altezza dei punti d'accesso a Campobasso per controllare tutti i veicoli in transito, temendo che alcuni evasi dal penitenziario di Foggia potessero scegliere proprio il capoluogo molisano come meta della loro fuga. Dalla città pugliese arrivano notizie sconcertanti, persone scappate sul tetto che poi hanno divelto il cancello della struttura e sono scappate a bordo delle auto del personale. A proposito di detenuti, per ore si sono rincorse voci che nel penitenziario di Via Cavour a Campobasso potessero giungerne 20 in trasferimento da Modena, ovvero dall'Istituto di Pena che ha vissuto momenti di forti tensioni a causa della rivolta in cui sono morte 6 persone, 3 detenuti a seguito degli scontri e 3 dopo lo spostamento altrove. Pare che per tutti sia stata fatale un'overdose da farmaci. L'arrivo dei 20 carcerati è stato escluso dopo le prime conferme detenuti sui tetti anche a Trani, a San Vittore, a Milano. A Re Bibbia la Cellere ha fatto fatica a contenere il sit-in dei parenti che all'esterno si sono uniti al coro Libertà Libertà che proveniva dai rimostranti i quali hanno appiccato roghi all'interno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.